gentili telespettatori buona giornata vi ricordate la ex ministra elisabetta 30 tornata a essere senatrice perché gli è stato tolto l'incarico da ministro della difesa lei del movimento 5 stelle aveva chiesto l'assegnazione di una casa a roma in quanto ministro fino a qua nulla di strano ai ministri viene assegnata una casa dello stato sono case ci sono diversi livelli sono case di rappresentanza di alto livello è altissimo livello di rappresentanza ci sono dei però dei grandissimi però la casa viene assegnata quando il ministro il rappresentante politico non ha una casa di proprietà del comune di roma e lei e il marito avevano già una casa quindi prima violazione casa assegnata a chi non aveva diritto nell'assegnazione poi lei la fa passare al marito la fa assegnare al marito quando non è più ministro della difesa il marito è un maggiore dell'esercito però quel tipo di casa livello 1 il più alto in assoluto non può essere assegnata a un maggiore dell'esercito ma viene assegnata a gradi più alti generali di corpo d'armata con incarichi speciali eccetera eccetera quindi ci sono due indagini della magistratura tributaria in quella civile quella tributaria per vedere e valutare il danno erariale allo stato e quella civile per valutare come e quando è stato aggirato il regolamento chiamiamolo aggirato il regolamento e chi è stato complice di questo aggiramento del regolamento e così ha messo in difficoltà assoluta il movimento 5 stelle che è già nel caos di suo governo col pd manovra delle tasse il caos dell'ilva provocata direttamente principalmente dal movimento 5 stelle che si è impuntato per togliere l'immunità a darcelo il metal e quelli hanno avuto l'occasione legale per correre via adesso arriva quest'altra tegola perché il movimento 5 stelle aveva dei capisaldi no ma i colpi di la casta e sono colpi di onestà onestà e questi questo non è il primo caso che contraddice quel onestà onestà da parte dei massimi dirigenti del movimento vi ricordate fico con i lavoratori in nero ok facendo questo preambolo questo caso imbarazza assolutamente il movimento 5 stelle il caso sollevato dal corriere della sera il capo politico dei 5 stelle luigi di maio che ha già i suoi problemucci invita dopo aver letto l'articolo sul corriere della sera come l'ho letto io invita a dare una spiegazione a elisabetta 30 e dice ho letto la notizia sul corriere vedremo cosa avrà da dire elisabetta 30 già quel vedremo cosa avrà da dire elisabetta 30 è già una mezza minaccia ma il momento 5 stelle non ne sapeva niente spero che lei possa chiarire nelle prossime ore ovviamente lei è più un ministro del governo ed è bene che spieghi tutto il prima lei non è più ministro del governo ed è meglio che spieghi tutto il prima possibile intanto un'interrogazione urgente viene presentata da maurizio gasparri senatore di forza italia e dice apprendiamo delle imprese dell'ex ministra della difesa elisabetta 30 i moralisti un tanto al chilo grillini sono bugiardi ed ipocriti anche andrea marcucci senatore del pd chiede chiarimenti se le indiscrezioni risultassero vere saremmo di fronte ad un comportamento molto grave anche perché coinvolgerebbe un esponente di primissimo livello dei 5 stelle 30 chiarisca velocemente beh sicuramente è un episodio grave perché c'è un'assegnazione illegale a delle persone che avevano già una casa nel comune quindi non potevano averla poi un'altra una seconda illegalità è quella di farla assegnare poi al marito successivamente ma non aveva i gradi dell'esercito adeguati per quel livello di casa del primo livello di alta rappresentanza chi ha visto la casa dice una casa di alta rappresentanza intanto interviene anche stefano buffanti dicendo noi siamo nati con un'altra missione stare nei palazzi rischia sempre di contaminarci di cambiarci ed è contro questa droga che dobbiamo tenere alta l'attenzione noi non sono mai non sono mai stato estremista ed ho sempre tenuto un po di elasticità ed alta tolleranza nelle cose attirandomi anche tante cattiverie nel movimento non sono mai stato uno giustizialista e capisco che durante il mandato possono nascere esigenze funzionali ma se fosse stato uno del pd o uno della lega da assegnare al marito una casa di quel tipo di quel genere da tenere anche dopo il mandato cosa avremmo detto ecco io mi auguro che venga liberato il prima possibile l'appartamento e venga tolto dall'imbarazzo il movimento 5 stelle attenzione buffagni dice 30 levati da quell'appartamento immediatamente e togli l'imbarazzo il movimento 5 stelle ma attenzione anche se la 30 oggi fa gli scattoloni e corre in strada caricandosi la macchina ormai il fatto c'è la magistratura sta indagando e il fatto è grave rimane non è che è stata scoperta vai via vai via dai che chiudiamo la storia il fatto è grave 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 è di una gravità politica enorme enorme perché il politico ministro al governo deve essere il primo a dare l'esempio ma lei risponde subito su facebook e voi sapete no bisogna rispondere su facebook non chiamare i giornali non scrivere al corriere telefonare a un giornalista telefonare a di maio telefonare a chi cavolo volete a conte no lo scrive su facebook lo scrive su facebook e questo vi fa capire tante cose lo scrive su facebook e dice l'alloggio di servizio perché più vicino alla sede lavorativa nonché per opportune esigenze di sicurezza e riservatezza l'alloggio è stato assegnato ad aprile 2019 seguendo l'opportuna e necessaria procedura amministrativa esitata con un provvedimento formale di assegnazione da parte del competente ufficio quando lasciato l'incarico avrei avuto secondo regolamento tre mesi di tempo per poter lasciare l'appartamento termine ancora non scaduto scadenza tre mesi dal giuramento del nuovo governo vale a dire 5 dicembre come noto mio marito è ufficiale dell'esercito italiano con il grado di maggiore e svolge attualmente un incarico di prima fascia in carico per il quale prevista l'assegnazione di un alloggio del medesimo livello di quello che era stato a me assegnato infatti a me non era stato concesso un alloggio asir cosiddetto di rappresentanza ma un alloggio asi di prima fascia pertanto avendo mio marito richiesto un alloggio di servizio per evitare ulteriori aggravio economici sull'amministrazione a cui competono le spese di trasloco è stato riassegnato lo stesso precedentemente concesso a me previa richiesta e secondo la medesima procedura di cui sopra avete capito lei l'ha fatto per far risparmiare lo stato capite che brava lei diceva il trasloco lo paga lo stato gli facciamo risparmiare queste spese di trasloco e noi rimaniamo qua in una casa che la ministra non poteva avere perché loro hanno già una casa di proprietà a roma che il marito non poteva avere perché non ha i gradi per avere e lei poi nonostante è stata assegnata in maniera in questo tipo e bisognerà capire chi sono i complici di questa assegnazione e lei l'ha fatto anche per fare risparmiare il governo il trasloco il trasloco costa ma in rete dicono ma dove è finita la vostra onestà onestà svenduta per 30 denari grillo ci ha regalato dei personaggi meravigliosi roba che si faceva fatica a trovare persino nella prima repubblica beh certo pensando a lei pensando a fico e pensando a tanti altri con tante uscite quella delle cozze pelose a taranto diciamo che c'è un quadretto c'è un quadretto nell'esecutivo nel governo nel parlamento e nel senato che che è veramente inquietante avere dei personaggi di questo tipo corrono il rischio di di rovinare lo stato di fare dei danni gravissimi il danno gravissimo uno dei primi è quello dell'ilva lo state vedendo con i vostri occhi e così e così siamo di fronte nuovamente a comportamenti che non sono consoni a ricoprire degli alti incarichi la 30 dovrebbe dimettersi immediatamente perché questo non può passare sotto il tavolo ormai è conclamato pubblicato dal principale giornale italiano il corriere della sera ormai è un fatto che non può più essere nascosto e lei non se la può cavare con un post su facebook un post su facebook e conte non dice niente era un suo ministro è una parlamentare la senatrice del suo governo conte sarà davanti lo specchio pensando adesso che cavolo dico questa volta ci abbiamo un altro problema io vi ringrazio per avermi ascoltato mi invito ad iscrivervi a questo canale è assolutamente gratuito nella community trovate tanti sondaggi siamo anche su facebook tele italia notizie dove trovate anche le tutti i video che sono presenti in youtube potete condividerli con chiunque grazie per avermi ascoltato vi rimando al prossimo video arrivederci